sto leggendo in giro che molte persone stanno avendo problemi con il terzo set l'hardwired che è uscito con mondo 5 per il semplice motivo che non può essere droppato infatti a differenza degli altri due che sono ottenibili dai blacktask questo qua ha un metodo per essere ottenuto un po' diverso se avete finito la roccaforte blacktask e non avete la secchezza del fauci che io in questo momento spero che siate andati a dare una controllatina al banco dei progetti e alla casa bianca che voi abbiate o no la secchezza del fauci la cosa non cambia però se andate alla casa bianca e al banco dei progetti potete notare che c'è un progetto chiamato prototipo hardwire per essere completato vi chiederà dei materiali speciali i 10 di tecnologia hardwire sono droppabili dai blacktask e io vi consiglio di andare in zona nera quella invasa che è piena di blacktask mentre per gli altri componenti che vi chiede bisogna completare le missioni segnate in descrizione e uccidere il boss finale sperando che ve lo droppi il mio consiglio è quello di giocare le missioni a modalità difficile in quanto la percentuale nota di drop è del 50% tengo a precisare che non sono certo che a difficoltà più alta della difficile la percentuale di drop aumenti se avete tutti i pezzi compresi i 10 di tecnologia hardwire potete donarli alla casa bianca in modo da ottenere i progetti del set state già andando alla stazione di crafting vero? fatto sta che no non basta per craftare il set infatti dovete un'altra volta fare il giro delle missioni sempre a difficoltà difficile o superiore sperando di droppare un'altra volta tutti quei componenti specifici e in più avere 60 unità di tecnologia hardwire per craftare il set completo le missioni da farmare sono il grand washington hotel il jefferson trade center il bunker federale d'emergenza il lincoln memorial il museo aerospaziale e la sede centrale della banca mi spiace ma la review del set non posso farlo in quanto mi mancano alcuni pezzi per completare il set io spero di esservi stato utile e niente mi farebbe piacere se lasciate un mi piace se condividete e se venite a farmi compagno su Twitch ciao